Diciamo poco precisi perché in realtà è successo più o meno dieci anni fa, anche se non ero proprio piccolo, vabbè, ero adolescente, io d'estate avevo preso, senza dirlo ai miei, no che dieci anni fa, avevo tipo dodici anni, senza dirlo ai miei avevo preso uno zippo, che sono gli accendini quelli a benzina, e a un certo punto, siccome la palma mi sembrava abbastanza ignifuga, non mi sembrava particolarmente propensa al prendere completamente fuoco, a un certo punto ho fatto così sui peri della palma, con lo zippo, ah non c'è più il neon shark, Ma non hoculato lo squalo! Ma come ti hanno inculato lo squalo? Ma come ti hanno inculato lo squalo? Ma non c'è più, sono tornato oggi a casa io! Ma come ti hanno inculato lo squalo? No! Ma come ha fatto incularti lo squalo? Arrubiii, gli squali stanno arrivando! No, no, vado da mi fratello, ma appena... mamma mia! Scusami, non è dietro di te lo squalo? Ma no, mi stavo là attaccato No, ma questo è un altro Vabbè, appendi al muro quello